Salve, rieccoci per un video sulla fusione nucleare a confinamento magnetico. Con questo video proseguirò a quello che ho fatto nel video precedente sulla ricerca condotta sul Tokamak FTU di Frascati. Quest'oggi invece vi porto i risultati della ricerca condotta sul Tokamak Compass di Praga, che è un dispositivo su cui ho lavorato per sei anni, più o meno, forse cinque perché effettivamente è stato smantellato un anno fa, e che quindi nel corso degli anni, ma per la verità dei decenni, ha prodotto un grandissimo numero di risultati interessanti appunto nel campo della fusione, in alcuni dei quali ho partecipato anch'io, quindi ho contribuito ad alcuni dei lavori che sono stati pubblicati e di cui vi parlerò oggi. Quindi Compass è un dispositivo notevole, in un altro video riguardante il Tokamak o la fusione nucleare ve l'ho citato già, come uno dei Tokamak più vecchi in verità, insieme a Golem, che è l'altro Tokamak molto piccolo che si trova qui a Praga. Quindi Compass è un dispositivo interessante che non poteva mancare sulla lista, anche perché è il dispositivo su cui ho lavorato. Quindi non so se vi porterò poi anche gli altri Tokamak che vi ho accennato, quali TCV in Svizzera e ASDEX in Germania, però perlomeno questo era uno di quelli necessari, assolutamente necessari. Prima però di passare alle slide che parlano veramente della fisica, quindi delle ricerche che sono state compiute, volevo darvi una piccola comunicazione di servizio, in un certo senso. Si tratta di un film che ho visto ed è Openheimer, un film che ho visto da poco, in Italia non è ancora uscito, al momento in cui sto girando questo video. Io l'ho visto poi a Praga in un cinema IMAX, che è il formato, diciamo, di cinema per cui è stato pensato questo film. Quindi in IMAX si ha un'esperienza diversa, molto diversa da quella di un film normale, di un cinema normale. Quindi Openheimer è un film fantastico, non c'è bisogno che ve lo dica, so che c'è molto hype, ci sono moltissime aspettative, quindi diciamo che sapete già probabilmente a cosa andrete incontro guardandolo, è un film che parla molto bene, in maniera molto precisa, curata, della fisica, che sta dietro le ricerche di Openheimer, il progetto Manhattan, la costruzione della prima bomba nucleare, e di tutti gli scienziati che hanno contribuito, quindi non solo Openheimer, ma tanti altri grandi nomi, diciamo, della fisica del Novecento. È anche interessante per la ricostruzione delle vicende personali di Openheimer e appunto degli altri scienziati che contribuirono al progetto. Quindi è veramente un capolavoro, vi consiglio di vederla appena potete. Con questo, adesso vi ho finito questa prima introduzione e veniamo alle slide. La presentazione dei risultati di Compass, quindi i risultati della ricerca compiuti sul Tokamak Compass di Praga. Farò una cosa analoga a quanto ho fatto per FTU, quindi cercherò di seguire lo stesso schema. Quindi come prima cosa vi volevo dare un po' di contesto, quindi per FTU vi ho mostrato il sito dell'Enea, il centro di ricerca Enea, nella campagna di Frascati, e vi ho mostrato come si trovi in un ambiente molto bucolico, molto piacevole dove lavorare. Per l'Istituto Plasma Physics, che ospita il Tokamak Compass, invece la situazione è leggermente diversa. Invece di trovarsi nell'aperta campagna, diciamo, delle colline, si trova in un quartiere leggermente periferico di Praga, che si chiama Ladvi, diciamo, la zona si chiama Ladvi. E in questa mappa sulla sinistra vedete il quartiere di Ladvi, che è un quartiere, diciamo, di abitazioni. Questi sono tutti palazzi di appartamenti. E qua c'è una regione, diciamo, una zona, che ospita una serie di edifici della Czech Academy of Science, tra cui appartiene anche l'Istituto Plasma Physics, che è questo qua. Questo è l'edificio nuovo, edificio costruito da un anno, in cui siamo stati trasferiti dall'edificio vecchio, che era quest'altro qua, a cui è collegato da un piccolo punticello, molto bello. Questa zona è molto piacevole da frequentare in primavera e in estate, perché è una zona alberata, una specie di grande parco, tra questi palazzoni. Praga, per la cronaca, si trova da questa parte, più verso sud, e questa è un'ansa del fiume, e questo è il quartiere di Olesciovizze, dove tra l'altro vivo io. Quindi non è esattamente nel centro, ma si raggiunge dal centro in 5 minuti con la metro. Ma veniamo a COMPAS, quindi dall'Istituto Plasma Physics passiamo a COMPAS, che è il tokamak in questione, quindi di cui parlerò oggi. Allora, COMPAS è un tokamak compatto, come per FTU, quindi di dimensioni modeste, però, a differenza di FTU, ha una sezione del plasma di tipo ITER, quindi la forma del plasma, la forma trasversa, è la stessa che si incontrerà in ITER, e questo da origine permette di accedere a tutta una serie di regimi di confinamento del plasma che sono molto più rilevanti appunto per gli studi su ITER. Alcuni dei parametri principali sono un campo magnetico fino a 1,7 Tesla, che è molto minore di FTU, che raggiungeva addirittura gli 8 Tesla, e una corrente di plasma fino a 350 kA, che rinnova molto minore di FTU, che raggiungeva addirittura i 2 MA. Ha una sezione elongata, come dicevo, quindi diversa da FTU, che era circolare, il raggio maggiore è circa mezzo metro, il raggio minore è poco più di 20 centimetri, quindi anche per quanto riguarda le dimensioni è più piccolo di FTU. Possiede una piccola, modesta, diciamo, quantità di riscaldamento ausiliario nella forma solo di MBI, quindi Neutral Beam Injection, iniezione di atomi neutri, diciamo, nella forma di due beam, due fasci, ciascuno da 0,4 MW di potenza, con un'energia del fascio di 40 kV. Va bene, quindi sono parametri abbastanza modesti, in verità. E questa è un'immagine del Tokamak, con tutte le apparecchiature che vi stanno intorno, all'interno della wall sperimentale. Allora, per queste informazioni che vi riferirò oggi, ho fatto, diciamo, ricorso ad alcuni paper che sono stati pubblicati negli ultimi anni. Il principale è questo, Overview of Compass Results, di Martin Rohn e altri, praticamente tutto il team di Compass ha contribuito, è uscito su Nuclear Fusion nel 2022, quindi l'anno scorso, ed era appunto, sostanzialmente riassuntivo di tutta l'attività recente di Compass, in occasione del suo smantellamento. Infatti, come vi ho detto, ora Compass è stato smantellato e ci prepariamo a costruire il nuovo Tokamak. Altri riferimenti importanti sono questo, Overview of Power Exhaust Experiment in Compass Divertor with Liquid Metal, che parla di esperimenti con il divertore, con metalli liquidi, che è una cosa molto peculiare di Compass, ve ne parlerò. Questo studio su Current Quenches e Vessel Current Characterization che ha a che fare con le disoluzioni, che sono un fenomeno molto interessante, è stato studiato da Matveva. E poi gli esperimenti sui RUNE, quindi RUNEWY Electron Experiment in Compass, di Jan Linar, che riassume, in un certo senso, i principali risultati negli studi dei RUNEWY. E quindi, quali sono i principali ambiti di ricerca di cui parlerò? Prima parlerò un po' di tomografia e videocamere, che è un argomento molto interessante per le diagnostiche, quindi lo sviluppo di camere per riprendere il plasma e strumenti per ricostruire, per esempio, alcune strutture che si creano nel plasma. Poi studi sulla LH Transition, che sarebbe la transizione dal modo L, a basso confinamento, al modo H, ad alto confinamento. E questi sono i molto importanti, appunto, per capire come si accede a questo modo di alto confinamento. Poi ci sono gli esperimenti con il Liquid Metal Divertor, quindi il Divertore con metalli liquidi, che è una cosa molto peculiare, appunto, di Compass. Gli studi su iniezioni di impurezza nel Divertore, che hanno lo scopo di irradiare più energia e quindi ridurre i flussi di potenza. E poi ci sono gli studi sui RUNEWY Electrons, che sono, appunto, un campo di ricerca su cui Compass ha dedicato molti anni. E gli studi sulle disoluzioni, che sono questi fenomeni violenti, che possono portare alla terminazione del plasma e probabilmente anche a seri danni al dispositivo. Quindi, li vedrò, cioè, li esaminerò uno per uno per darvi un po' più di dettagli. Intanto, vi fornisco questa visione un po' preliminare di come è fatto il plasma in FTU, scusate, in Compass. Ha una forma elongata, come vedete, e ha anche un punto X, poi in basso. Quindi, le linee di campo magnetico, o meglio, le superfici magnetiche, sono elongate verticalmente e creano questa configurazione, appunto, X, dove si intersecano qua in basso. E qua in basso si trova il divertore, che è quel componente che è adibito, appunto, a sopportare grandi flussi di potenza. L'ultima linea, che qua vedete, al bordo, quell'arancione, viene detta separatrice. E questo qua, invece, è il punto X. Sulla destra, invece, c'è un'immagine dall'alto del tokama con tutte le diagnostiche, quindi gli strumenti di misura, che sono installati. Infatti, come vedete, ce ne sono un gran numero. Adesso, senza esaminarli uno per uno, diciamo che alcuni di questi verranno citati nei lavori successivi. Cominciamo con questa applicazione, che io conosco poco, quindi io ne darò pochi dettagli, perché non sono particolarmente esperto. Comunque, consiste nell'uso di videocamere, nel range visibile o infrarosso, per osservare e ricostruire delle strutture che si creano nel plasma, in particolare al bordo del plasma, si possono creare dei blob turbolenti o dei filamenti che sono associati appunto alla turbolenza. Con le videocamere è possibile individuarli, studiarne la dimensione e il moto, e con un codice particolare, che si chiama TRACK, che è stato preso in prestito, se non sbaglio, da un altro istituto, si possono tracciare le loro traiettorie. Quindi, diciamo, fotografando la posizione e la forma di questi blob, a tempi diversi è possibile seguirne la loro evoluzione. È molto utile questo per gli studi sulla turbolenza. Poi, per gli studi sul modo LH, quindi, scusate, sulla transizione tra il modo L e il modo H, ci sono un certo numero di risultati che sono stati fatti. Qui non ci sono immagini, ma ci sono solo alcuni punti, diciamo. In particolare, si è osservato che il punto X, l'X-point, diciamo, la sua posizione, la sua distanza dal divertore, influenza molto la potenza che serve per fare la transizione, dal modo L al modo H. In particolare, se il punto X si abbassa, quindi si avvicina al divertore, la potenza di soglia diminuisce, diventa più facile accederli. Poi c'è una questione legata ai campi di errore, error fields, che sono, diciamo, campi magnetici presenti a causa di disallineamenti nelle bobine, quindi imperfezioni nell'avvolgimento delle bobine, e questi error fields possono portare a disoluzioni, quindi terminazione violenta della scarica che può anche danneggiare il tokamak. E questo avviene più frequente alla transizione dal modo L al modo H, per via di certe dinamiche interne. E in questo contesto sono state create delle bobine apposite, che vengono dette error field correction coils, quindi bobine che servono a correggere questi campi d'errore. Questi sono in grado di compensare, in parte, questi error fields, però ci sono alcune componenti che sono non risonanti, quindi che hanno, diciamo, modi, se così vogliamo dire, numeri d'onda diversi, che non sono completamente soppresse. Adesso passiamo, direttamente, agli esperimenti con il divertore a metalli e liquidi, liquid metal diverter. Qui bisogna che ci spenda un po' più di tempo perché questo è un componente molto interessante su cui Compass e in particolare alcuni miei colleghi hanno dedicato molti anni per il suo sviluppo. In particolare si tratta di un componente che resiste a intensi flussi di calore. In FTU vi ho parlato del limiter a metalli e liquidi. Siccome in Compass abbiamo un punto X, questo si traduce in un divertore, quindi è un componente diverso, ha una posizione diversa e in particolare subisce flussi di potenza molto maggiori. Quindi il divertore che è stato sviluppato è costituito da un blocco di molibdeno, se non ricordo male, sul quale è stata creata, è stata adagiata, diciamo così, una rete metallica fatta di tungsteno con un sistema per cui è possibile depositare una certa quantità di metallo liquido sulla sua superficie senza che le forze elettromagnetiche lo trascinino via. Quindi rimane ancorato a questa specie di rete metallica per capillarità. La forma particolare di questo blocco è tale che se viene inserito per una certa estensione all'interno del plasma, le linee di campo magnetico lo intersecano con angoli diversi. Angoli diversi significa maggiore flusso di potenza perpendicolare alla sua superficie, quindi spingendolo più all'interno del plasma con opportuni motori è possibile esporlo a flussi di potenza più alti e in particolare il flusso di potenza che è stato in grado di sopportare è molto elevato. E in particolare infatti il divertore con una lega di litio e stagno che sono due metalli con bassa temperatura di fusione ha supportato flussi di potenza fino a 12 MW al metro quadro che sono dell'ordine di grandezza di quelli che ci si prevede diciamo si prevedono per ITER. Sono stati anche analizzati con videocamere le linee di emissione quindi emissioni da transizioni atomiche del litio che corrispondono a diversi stati di ionizzazione in particolare a seconda delle transizioni atomiche il litio emette luce in colori diversi quindi il rosso equivale al litio o neutro il blu al litio scusate il verde ha il litio ionizzato una volta e il blu ha il litio ionizzato due volte mentre invece non si è osservata nessuna traccia di stagno che ha una carica elettrica più alta e quindi ha molti più possibili livelli diciamo di ionizzazione però lo stagno non è stato ionizzato in particolare la superficie la temperatura superficiale di questo divertore non era sufficiente per causare l'evaporazione dello stagno e questa è una particolarità molto utile in quanto un'alta temperatura di evaporazione permette di raggiungere più grandi flussi di potenza infatti lo stagno si presta bene a questo un altro studio che è stato fatto che riguarda sempre il divertore è l'iniezione di impurezze che viene detto in gergo impurity seeding lo scopo è quello di far irradiare potenza a causa di queste transizioni atomiche ionizzazione e ricombinazione in modo da ridurre la quantità di potenza che incide direttamente sul divertore in modo che possa resistere a flussi di potenza più elevati in particolare qui è stato iniettato del neon scusate dell'azoto in realtà per azoto in scariche in modo L quindi con flussi di potenza più bassi rispetto al modo H per provocare quello che si chiama detachment che sarebbe separazione di stacco in modo appunto da ridurre i flussi di calore sul divertore il risultato interessante è che invertendo la direzione del campo magnetico e della corrente del plasma si è osservata una ridistribuzione dell'azoto che si osserva qui come una luce blu perché è la luce di transizione diciamo di radiazione atomica che cambia molto quindi nella direzione forward del campo magnetico l'azoto emette solo nel divertore qua in basso mentre invece nella configurazione invertita l'azoto si ridistribuisce su tutta la parte interna del tokamak e quindi emette luce su tutta la superficie però questo è negativo ha un effetto negativo in quanto non si riesce a ottenere un detachment stabile quindi un distacco stabile quindi questo non può essere controllato passiamo adesso a un altro importantissimo argomento sto andando abbastanza rapidamente ma su questo spenderò più tempo gli studi sui runaway electron elettroni runaway che sono questa famiglia diciamo questa classe di elettroni relativistici che si creano nel plasma in opportune circostanze e a cui ho dedicato più di un video addirittura quindi se volete potete recuperare più informazioni guardando alcuni video passati comunque gli elettroni runaway sono stati studiati molto a lungo in compass e come anche in ftu e sono state sviluppate molte diagnostiche quindi strumenti per osservare i runaway studiarne l'energia la distribuzione eccetera come per esempio gli art x-ray quindi raggi x duri con scintillatori detector per fotoneutroni vertical EC quindi electron cyclotron emission e pixel detector a semiconduttori e anche camere infrarosse quindi cominciamo già presentando un primo tipo di studi che sono stati compiuti che sono quelli che riguardano i solid state pellet in jet quindi l'iniezione di un pellet quindi un proiettile sostanzialmente di materiale solido in particolare di grafite ma è stato tentato anche un ossido di boro se non ricordo male e questo viene realizzato tramite un iniettore che è un cannone ad aria compressa sostanzialmente in cui il proiettile viene inserito viene sparato nel plasma e lì viene ablato non so come si traduce diciamo evapora e così facendo sottrae energia al fascio di runaway di elettroni runaway questo componente grosso qua che vedete è una camera di espansione che serve a impedire che l'aria compressa entri nel plasma cioè nel tokama qui si espande quindi viene intrappolata qua dentro un po' come il silenziatore di una pistola sostanzialmente allo stesso scopo adesso cominciamo con alcuni degli esperimenti più importanti che sono quelli per la mitigazione tramite iniezioni di gas e anche perturbazioni magnetiche risonanti l'iniezione di gas è quella più diciamo su cui si punta di più anche per ITER le perturbazioni risonanti sono state scartate a un certo punto perché poco pratiche per ITER però su compost abbiamo fatto degli esperimenti interessanti appunto una delle tecniche più largamente usate per mitigare i runaway è iniettare del gas che può essere fatto in maniera diversa con un gas puff che significa un puff un'iniezione un piccolo oggetto o un massive gas injection quindi una vera e propria nuvola di gas che viene iniettata MGI diversi gas possono essere impiegati quindi vi mostro l'esempio in cui viene iniettato una certa quantità di argon che serve a causare una disruzione che è un altro argomento di cui parlerò in seguito la disruzione sostanzialmente fa collassare il plasma perché il plasma si raffredda emette energia quindi si raffredda e collassa la configurazione magnetica ma nella disruzione si creano anche dei elettroni runaway dopodiché viene iniettata una quantità di deuterio più grande può essere un gas puff o una massive gas injection che ha lo scopo di mitigare runaway ora in questa immagine l'asse X sono i tempi quindi vuol dire che queste quantità in particolare la corrente di plasma e il livello di hard X-ray quindi raggi X evolvono nel tempo in questa direzione quindi qua viene iniettato dell'argon la corrente di plasma diminuisce perché c'è una disruzione però come vedete in diversi casi quindi a seconda che venga iniettato deuterio o che venga soddisfatto a una certa condizione questo non ricordo esattamente cosa significa ma come vedete ha un certo effetto sulla evoluzione successiva della corrente quando la corrente si mantiene anche dopo la disruzione tipicamente questo significa che viene trasportata dagli elettroni runaway quindi qui abbiamo una predominanza di elettroni runaway e si vede anche nel livello di raggi X i raggi X sono una un'evidenza della presenza di runaway nel plasma quindi sono stati compiuti degli studi scusate non vorrei aver saltato niente no sono stati condotti degli studi in cui venivano variate delle quantità dei parametri per vedere come questo influiva la mitigazione degli elettroni runaway qua viene misurata in due modi diversi IRE su I DISP sarebbe o DISR sarebbe la corrente di runaway diviso la corrente di plasma prima della disruzione quindi la corrente di plasma totale e questa è una misura di quanti di quanta parte della corrente diventa nella forma di runaway qui lo studio è stato fatto variando il campo magnetico si è visto che c'è un campo magnetico di soglia al di sotto del quale non c'è generazione di runaway mentre al di sopra di questo c'è una brusca transizione e poi rimane più o meno costante è un valore di soglia c'è una frazione di corrente totale molto elevata quindi evidentemente al di sotto di un certo campo magnetico i runaway non si creano probabilmente perché vengono persi vengono si sfuggono via prima un altro studio è stato fatto variando la quantità di gas iniettato questo studio copriva diversi ordini di grandezza da 10 alla 18 a 10 alla 21 particelle al metro cubo quindi diventa una frazione piuttosto significativa della densità del plasma addirittura superiore alla densità del plasma e la quantità che viene plottata in assi verticale è la derivata temporale della corrente che rappresenta facendo riferimento a questa immagine per esempio la rapidità con cui la corrente diminuisce quindi più questa derivata è grande e più in fretta la corrente di plasma diminuisce quindi c'è una maggiore rapidità nella distruzione il gas path è limitato a frazioni diciamo di gas piccole qui è stato esplorato con due gas diversi argon e neon e si è visto che in entrambi i casi il gas path crea piccole derivate della corrente quindi piccole slope della corrente con la NGI Massive Gas Injection con frazioni molto elevate di gas la corrente termina molto più rapidamente quindi veniamo a qualcosa di più avanzato quindi l'applicazione di campi magnetici esterni risonanti vengono detti RMP Resonant Magnetic Perturbations tramite bobine esterne queste bobine sono installate sul lato esterno del tokamak in determinate configurazioni quindi cambiando la fase relativa di queste bobine si possono innescare modi di ordine diverso quindi sono state tentate diverse configurazioni magnetiche per vedere l'effetto che avevano sulla mitigazione del plasma dopodiché è stata scelta la componente dominante quindi la configurazione più efficace e si è visto come questo variava per esempio cambiando l'ampiezza della perturbazione oppure combinandola con l'uso di iniezione di gas quindi l'immagine a sinistra per esempio mostra la differenza tra scariche in cui non ci sono né gas né RMP ed è questa tratteggiata blu scura dove la corrente quindi non cambia cioè non decresce niente gas ma con un po' di perturbazioni vedi che la corrente comincia a decrescere gas ma senza perturbazioni c'è una decrescita molto rapida infine gas più perturbazioni c'hai la più la decrescita più rapida quindi l'effetto maggiore sulla destra e nelle immagini inferiori vedete la temperatura come crolla anche lei e gli hard x ray quindi i raggi x che sono evidenza della presenza di runaway sulla destra invece è stato usato argon ma quello che è cambiato è l'intensità della perturbazione quindi dal blu chiaro al verde l'intensità è stata aumentata e si vede che in maniera corrispondente in maniera proporzionale la corrente diminuisce più in fretta come ci si doveva aspettare un altro studio che è stato fatto è quello dell'effetto delle perturbazioni magnetiche sul confinamento dei runaway quindi quanto questi runaway vengono persi vengono si sfuggono via dal plasma applicando perturbazioni esterne nella forma di RMPs oppure in presenza di modi MHD magnetoidrodinamici interne come le isole magnetiche queste immagini mostrano due simulazioni con un codice particellare che mostra appunto che segue le traiettorie delle particelle sulla sinistra nel caso in cui non ci siano perturbazioni si vede che le particelle sono distribuite in maniera regolare sulle superfici magnetiche si applicate delle perturbazioni si vede che si crea una situazione molto più caotica e quindi i runaway possono diffondere via quindi si perdono più in fretta mentre invece in caso di perturbazioni magnetoidrodinamiche interne si è visto che questo può portare a regimi diffusivi anomali quindi diversi dalla diffusione standard diffusione classica quindi muoviamoci verso un altro argomento molto importante che sono gli studi sulle disruzioni disruptions ve l'ho già accennato le disruzioni sono questi fenomeni violenti in cui praticamente il plasma collassa senza starvi a dire dettagli di come questo avviene ci sono diversi modi in cui può avvenire su compass sono stati compiuti molti studi sulle disruzioni quindi esiste un database di scariche di esperimenti molto vasto e in un lavoro recente è stata fatta un'analisi statistica per vedere come la frequenza delle disruzioni rispetto al numero totale di scariche può dipendere da vari parametri quindi qui vengono mostrati alcuni esempi della dipendenza da n counts diviso n disruptions quindi sarebbe la frazione di diciamo di disruzioni rispetto alle scariche totale e in funzione di vari parametri qui c'è per esempio la corrente di plasma 1kA qui c'è Q95 che sarebbe il valore del safety factor il fattore di sicurezza al bordo del plasma che è un fattore che di solito determina la stabilità del plasma quindi più è basso e più il plasma è instabile solitamente qui c'è beta che beta P sarebbe il rapporto tra la pressione del plasma e l'intensità del campo magnetico o la pressione magnetica e anche questa più è alta di solito più è associata a instabilità e poi qui c'è la densità totale diciamo così quindi qua si può vedere per esempio che nella dipendenza dalla corrente non c'è un chiaro trend c'è un valore per cui è più alto ma non è rappresentativo per il Q95 si vede che ha valori più bassi intorno a 3 per esempio c'è un massimo e poi tende a diminuire a valori più alti per il beta poloidale si vede che le disruzioni avvengono con maggiore frequenza per questi valori qui quindi più verso il basso diciamo così e anche lo stesso vale per la densità quindi per valori più basse diciamo così quindi anche se questi sono analisi che non restituiscono una legge per dire una formula sono indicativi di come le disruzioni sono più frequenti al variare di questi parametri dopodiché ci sono degli studi che riguardano le forze che si esercitano sulla parete del plasma sul vessel che sarebbe il contenitore metallico in seguito alle disruzioni per osservare i movimenti del vessel e stimare le forze sono stati installati degli accelerometri MEMS che sono dei dispositivi che misurano appunto l'accelerazione e quindi indirettamente anche la forza e anche sensori di spostamento e camere veloci fast cameras che quindi riprendono i movimenti del vessel ci sono stati fatti anche degli studi con dei metodi numerici analitici che hanno evidenziato il fatto che in seguito a degli eventi detti vertical displacement che sono moti verticali del plasma che portano a disruzioni si esercitano delle forze laterali sul vessel quindi che puntano diciamo verso l'esterno diciamo così che sono dovuti principalmente all'assimmetrie nel vessel quindi deviazioni dalla simmetria toroidale dovuti alla presenza di port quindi oblo per così dire aperture non simmetriche quindi per esempio in questo caso ci sono queste due aperture particolarmente elongate con questa forma allungata che non hanno un corrispondente in un lato opposto quindi sono asimmetriche si è visto che queste comportano delle forze verticali che sono dirette perpendicolarmente alla posizione o alla direzione di queste asimmetrie e questi calcoli sono stati effettuati anche tramite dei codici numerici avanzati dopodiché ci sono delle correnti che si generano nelle pareti del plasma scusate nella parete metallica diciamo del contenitore in seguito a questi moti verticali le VDI ci sono due tipi di correnti principalmente le correnti parassite che vengono dei teddy currents che si generano per il moto del plasma che induce delle correnti nei conduttori e poi ci sono le correnti dette halo aloni sarebbero tradotte letteralmente che si generano quando il plasma tocca la parete o altri componenti che si affacciano sul plasma in questo caso la corrente invece di passare in circolare nel plasma circolano in questi conduttori è importante stimare l'entità di queste correnti qui sulla sinistra ci sono state calcolate queste correnti parassite sono state misurate tramite delle bobine magnetiche che sono installate all'esterno del vessel e è stato confrontato con una stima teorica però con una parete ideale quindi senza resistività si è visto che c'è un buon accordo fino a un certo punto dopodiché la teoria prevede che queste correnti crescano ancora mentre invece per negli esperimenti si vede che tendono a ridiminuire e qui invece è stato studiato il picco diciamo nella corrente quindi il massimo valore in funzione della corrente del plasma prima della disoluzione e si è visto che aumenta anche se non c'è un trend lineare preciso si vede che c'è un aumento globale diciamo di questa corrente di eddi corrente parassita in funzione della corrente del plasma in questo lavoro invece si osservavano le correnti di halo le halo current anche qui in funzione della corrente del plasma la corrente pre-disoluzione diciamo così quello che si osservava in particolare era il massimo valore della corrente e la larghezza del profilo di corrente questo perché le correnti di halo si sviluppano come ho detto quando il plasma tocca la parete e quindi scorrono su di una superficie che è quella in cui il plasma tocca la parete e in funzione della corrente del plasma anche la larghezza di questo profilo può variare si vede che ha questa forma particolare e si vede un trend diciamo più o meno lineare sebbene non sia facile ricostruire esattamente la slope di questa curva quindi sia la larghezza di questa regione sia l'intensità massima di queste correnti cresce con la corrente del plasma infine sono state osservate delle correnti che scorrono nei gap quindi negli intervalli negli interstizi tra le tiles del divertore le tiles sarebbero delle piastrelle diciamo così di tungsteno che coprono il divertore queste piastrelle possiedono dei gap tra un e l'altro e in questi gap nonostante queste siano isolate dal resto del vessel del contenitore si possono creare delle correnti appunto queste vengono misurate con delle bobine esterne quindi indirettamente diciamo siccome queste bobine cioè queste tiles diciamo hanno diverse configurazioni sono in alcuni casi sono continue in una direzione e in altri sono discontinue e presentano questi gap per eliminare ogni ambiguità sull'origine di queste correnti è stato creato un nuovo design di queste tile che ha permesso delle misure più precise e l'origine di queste correnti tra i gap non è ancora chiaro quindi questo esauriva più o meno gli argomenti principali su cui ho speso più tempo e adesso invece vi riassumo brevemente altri argomenti che sono stati affrontati ma di cui per esempio non erano fornite immagini o perlomeno non si entrava molto nei dettagli quindi ve li acceno soltanto allora un importante diciamo filone di ricerca è quello della misura della power decay length che sarebbe la lunghezza di decadimento della potenza che suona malissimo sul divertore sarebbe una lunghezza caratteristica di come si attenua la potenza su questo componente allontanandosi dalla separatrice quindi dalla zona in cui la potenza è massima c'è una decrescita esponenziale poi c'è la misura diretta della temperatura degli ioni nello scrape off layer che viene detto sol in gergo che sarebbe il bordo del plasma ed è difficile avere misure dirette della temperatura degli ioni mentre per gli elettroni è più facile poi ci sono studio della radiazione causata da iniezioni di impurezze piena di tempi riti seeding di cui abbiamo già parlato però qui veniva osservata radiazione anche nel core quindi nel centro del plasma non solo al bordo si è visto per esempio che una buona parte della potenza può essere irradiata via dalle impurezze poi c'è una misura diretta della densità di atomi neutri anche questo è importante perché in certi meccanismi di riscaldamento del plasma vengono iniettati appunto atomi neutri ma poi ci sono atomi neutri che entrano direttamente dal bordo perché il bordo del plasma cioè la parete del contenitore diciamo è esposta a un flusso di potenza quindi atomi periodicamente entrano nel plavo poi ci sono state osservate instabilità cinetiche quindi associate a molti praticamente di singole particelle nei fasci di runaway e queste instabilità cinetiche risultavano in onde elettromagnetiche onde radio e sono state anche iniettate delle onde radio onde elettromagnetiche tramite antenne per vedere per vedere se c'era un accoppiamento appunto tra le onde e il fascio di runaway poi sono stati caratterizzati questi modi geodesici acustici GAM geodesic acoustic modes che sono molto importanti per via di certe interazioni anche con particelle veloci o comunque sono legati alla turbolenza in qualche modo e poi c'è la caratterizzazione di caratteristiche del bordo scusate interpretazione di caratteristiche del bordo che è un modo vago per dire tutta una serie di parametri che riguardano la fisica del bordo del plasma tramite simulazioni con codici detti particle in cell PIC che sono codici particellari abbastanza potenti molto avanzati che sono in grado appunto di calcolare teoricamente queste quantità in modo da confrontarle poi con gli esperimenti e quindi concludiamo con quello che sarà l'upgrade di COMPAS ovvero COMPAS Upgrade come vi ho già anticipato COMPAS è stato smantellato un anno fa e al suo posto verrà costruito quest'upgrade che avrà parametri più avanzati quindi diventerà più rilevante per gli studi che vengono condotti su iter appunto e oltretutto prolungherà la vita dell'istituto Plasma Physics perché ci saranno fondi per continuare a lavorare COMPAS Upgrade appunto cambia solo nel nome ma di fatto sarà un dispositivo completamente diverso quindi sarà un nuovo dispositivo un nuovo COMPAS in particolare è un campo magnetico molto più alto fino a 5 Tesla che è nell'ordine di quello di ITER e una corrente di plasma fino a 2 mA che però è ancora minore molto minore di quella di ITER la sezione sarà quella di ITER quindi la stessa forma del plasma di COMPAS però sarà un pochino più grande avrà un raggio che raggiunge quasi il metro e raggio minore 30 cm raggio minore non cambia di molto raggio maggiore è quasi il doppio avrà anche una certa quantità di riscaldamento ausiliario che quindi serve a fornire maggiore potenza ci saranno fino a 6 MW di MBI Neutral Beam Injection con energia fino a 80 KV che è più alta rispetto a prima è ancora molto minore di quella di ITER però e ci sarà una grande potenza in forma di ECRH Electron Cyclotron Waves da 6 a 10 MW si vedrà poi quanto riusciremo davvero a installarne con una frequenza che sarà sia a 105 sia a 140 GHz la doppia frequenza serve a accedere a campi magnetici diversi per via della risonanza che deve essere rispettata quindi useremo doppie frequenze se non anche triple Dopodiché Compass Upgrade sarà dedicato a studi di grandi flussi di potenza sul divertore come è già stato fatto per Compass però questo verrà fatto in situazioni e in condizioni diciamo più vicine a quelle di ITER quindi sarà più rilevante si tenterà ancora la tecnologia dei metalli liquidi nel divertore e si faranno studi sui rune o naturalmente sulle distruzioni e poi Compass Upgrade sarà dotato anche di un vessel riscaldato a 500 gradi questo serve a riprodurre le condizioni di un reattore quindi avrà diciamo condizioni di bordo del plasma molto diverse per via dell'alta temperatura e questo lo renderà unico oltre per l'alto campo magnetico e per una serie di altre cose come la grande potenza di riscaldamento quindi Compass Upgrade è un progetto che è molto ambizioso per quanto sia ancora un token compatto ha delle condizioni di plasma molto estreme molto difficili e quindi speriamo di riuscire a fare della ricerca interessante si prevede che il primo plasma avverrà a fine 2026 quindi spero di essere stato abbastanza esauriente e anche sintetico però allo stesso tempo cosa non molto facile nel presentarvi questa carrellata di risultati che sono stati ottenuti su questi studi che sono stati compiuti su Compass negli ultimi anni questi sono lavori molto recenti per la verità esiste un lavoro del 2017 che era l'evidenza della prima transizione nel modo H quindi l'alto confinamento di Compass che è stato un risultato importante però siccome risale a parecchi anni fa al tempo appena in cui mi ero appena trasferito qua ho preferito non riportare anche quello comunque il modo H è stato ottenuto e da allora sono stati fatti molti studi appunto nel modo H quindi questa era una overview di risultati prevalentemente sperimentali che danno anche un'idea di quella che è stata l'attività principale di Compass negli ultimi anni e che verrà verosimilmente continuata proseguita con Compass Upgrade spero che questo vi sia interessato per me è stato molto interessante ripercorrere tutte queste ricerche mi sono riletto un certo numero di articoli dei miei colleghi o anche di me stesso perché no quindi ho avuto un po' modo di ripassare questi studi anche per trarre spunti magari per nuove ricerche e con questo spero che il video vi sia piaciuto e arrivederci al prossimo video ciao ciao